Ciao Ludovica, come va? Tutto bene, tu tutto posso, sei carica, pronta? Carichissima, sì, super super carica e super pronta. Fantastico, allora io entrerei subito nel vivo di questa chiacchierata, partendo proprio dall'uscita appunto del tuo nuovo singolo, Pau, spero di averlo pronunciato bene. Perfettamente. Ok, qualche orrore, puoi segnalarlo. Tranquillamente e il singolo uscirà sul mercato appunto il 26 di maggio e ascoltandolo così a primo impatto suona come un invito seducente a riempire, ad incendiare un dance floor. In quale punto specifico della tua carriera si colloca, Pau? Urca? Allora, mi piacerebbe che riuscisse ad arrivare ad essere un'adrenalina 2.0. Forse sono troppo sognatrice, perché Adrenalina, che è stata la canzone che ho portato a Eurovision due anni fa, tra l'altro i quali autori sono gli stessi di Pau e gli stessi di Try to Love You, che è il singolo in mezzo tra Adrenalina e Pau, mi ha veramente portato tanta, 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 tanta fortuna, Adrenalina, e mi ha dato una grande Adrenalina. Pau, quando abbiamo deciso di scrivere questo prezzo, abbiamo pensato a un'Adrenalina 2.0, forse esagerando, perché il successo che mi ha dato Adrenalina sicuramente è arrivato anche grazie a Eurovision, quindi a un palco così audazio come quello di Eurovision. Però secondo me Pau potrebbe avere delle grosse risorse. Non ha la forza di Adrenalina, ma potrebbe essere una bella sorpresa. È sempre collegata, perché comunque è sempre una canzone grintosa, con un messaggio sempre molto forte, molto positivo, molto non arrenderti, continua a lottare. Quindi ci può essere, ci può stare. Dal punto di vista stilistico, tu hai un tipo di stile appunto molto eclettico dal punto di vista musicale e si riflette tanto in ogni brano, anche sbirciando, io ieri mi sono fatta proprio tutta quanta una revisione completa dei tuoi live. Hai fatto i compiti. Esatto. E mi è venuta in mente questa domanda. Appunto, questo tuo stile eclettico guarda molto alle contaminazioni, sia per quanto riguarda il genere che per quanto riguarda anche le collaborazioni. Mi vengono in mente ad esempio collaborazioni appunto illustri che tu hai avuto in un passato recente, hai nominato Adrenalina, mi viene in mente Florida, Stephen Occhi, Benny Benassi, grandi nomi. Quanto tutto questo quindi ha influenzato il tuo stile, lo stile di Zenith e oltre al tuo gusto personale, che ruolo gioca? Ma più che influenzato, la mia era una condizione di curiosità. Io ho sempre voluto, in maniera, come hai detto tu prima, eclettica, curiosare, scoprire, sapere. E quindi il pensare di poter collaborare con questi grandi mostri sacri della discografia internazionale, per me è sempre stato un grande spunto, una bellissima. Mi sono sempre sentita molto spugnosa a poter prendere e carpire effettivamente le loro capacità, i loro talenti. Ed è successo tutte le volte. E poi sono sempre stata molto fortunata perché oltre a lavorare con grandi artisti, ho lavorato anche con grande persone, con belle persone, che sono riuscite anche a insegnarmi determinate cose anche a livello umano, no? Perché comunque questo mondo, soprattutto quello artistico, è molto complicato. E' davvero un mondo di squali. E invece poter collaborare con Colossi, che di esperienza ne hanno sicuramente molta più di me, mi ha dato una grande forza, una grande grinta. Sì, mi è sempre piaciuto sperimentare, mi è sempre piaciuto poter condividere. Condividere un palco, condividere un'idea. Sono sempre stata molto per una visione molto corale, molto famiglia e non so per quale motivo, non so da dove arrivi questa passione. E poi mi piace cantare da sola, mi piace anche fare brani da sola, anche snudarmi quando è necessario, metaforicamente ovviamente, come è successo per Try to Love You. Però sono sempre per la condivisione e mi piace, lo faccio sia a livello musicale, vabbè, che a livello anche personale, perché poi mi piace capire, ascoltare, parlare, ma soprattutto a livello lavorativo tantissimo. Infatti non c'è mai un autore col quale collaboro, ce ne sono tanti. Non c'è mai la vittoria di San Marino, che è il paese che ho rappresentato a Eurovision, non è stata solo mia di andare in finale, ma è stato davvero di un grande team, di una bella collaborazione a livello scenico con Floraida e poi tutto un team artistico d'eccezione che mi ha ruotato intorno per tutto il periodo di Eurovision. Quindi, chissà, mi piace lasciarmi contaminare, sì, è vero, sia a livello artistico che a livello personale. Prima hai accennato appunto al discorso del messaggio dietro Pao, quello che veicolano le parole, il messaggio che appunto si trasmette attraverso la canzone. Quanto è difficile quindi veicolare dei messaggi importanti legati per esempio alla lotta alle discriminazioni, senza però sacrificare l'aspetto più spensierato, mainstream e adrenalinico, ma anche aggiungerei energico, dei tuoi brani? Che non è facile, è un equilibrio. No, no, è vero, molto, molto labile, però fa tanto per quanto mi riguarda la produzione musicale, perché a me piace fare questo lavoro, ma in maniera consapevole che non vuol dire superficiale. Cioè a me piace cantare, Ludovica, mi piace poter portare la mia adrenalina, ma riuscendo sempre a dare un piccolo messaggio, perché ho la fortuna e il privilegio di avere un microfono in mano davanti a un palco così ampio e così grande, senza dover essere necessariamente la paladina di chissà quale credo, chissà. Però è anche giusto poter riuscire in qualche modo a dare un piccolo messaggio. E io, quando mi hanno proposto Eurovision, parlo sempre di Eurovision perché è il palco più grande che ho cavalcato negli ultimi anni, insieme a Luca Tommasini, che è stato per me una grande fonte di guida, di attenzione, abbiamo proprio deciso di fare un lavoro del genere. Prima col Freaky Trip per Rotterdam, che è stato questo viaggio di video che hanno scaldato i fan eurovisivi, e poi con l'esibizione di adrenalina. Di non arrendersi, di non demordere, perché comunque è vero, la vita è dura, però bisogna davvero tirarsi su le maniche e mantenere la propria adrenalina salda. E questo, tra l'altro, succedeva durante il periodo della pandemia. Con Poe è la stessa cosa, però cerco di tenere il mood, tra virgolette, leggero, passami la parola leggero, con una produzione musicale che ti viene voglia di rimanere spensierata, perché se no mi diventa un maccigno anche solo per me doverlo cantare e pensare. È giusto, la leggerezza forse è la chiave di lettura e di interpretazione della realtà. Sì, però non è superficialità, mi raccomando, non deve essere fraintesa con, sì, superficialità, me ne freghi, no, no, è solo consapevolezza di essere fermi e solide, ma in maniera leggera. Cioè, siamo circondati da così tante pesantezze, Ludovica, ma io devo mettermi a cantare... No, no, io devo essere tranquilla e serena, divertirmi, divertirti, se riesco, e rimanere leggera. Ed è quello che ci serve, soprattutto, visto gli anni che abbiamo passato, ancor di più. E quest'anno sei, presumo che tu sia pronta, insomma, a condurre un festival internazionale, che è quello dei cori LGBTQ+, Various Voices, che sarà a Bologna, questo festival, dal 14 al 18 giugno, se non ricordo male. Bravissima. E tu sarai presente, però, quest'anno anche al Pride di Roma ci sarà la tua presenza. Quindi, due eventi imperdibili e da un impatto simbolico molto forte. Secondo te, quanto è lunga ancora la strada per i diritti civili e quanto questi eventi possono aiutare ad affermare il diritto di essere se stessi in totale libertà? Allora, secondo me in Italia c'è ancora un pochino di strada da fare, non tantissima, ma un pochino ce n'è. Perché il popolo è forte e volenteroso al cambiamento. Chi ci governa è un pochino meno, però sono molto propositiva perché in qualche maniera ci stiamo facendo sentire, anche attraverso questi eventi. E a me piace poter stare sopra il carro, in maniera reale, anche metaforica, e poter riuscire a dare il mio contributo. Il Pride, come hai detto prima, il 10 di aprile, ma anche il festival, il primo festival internazionale che Bologna accoglie a braccio aperte di tutti i cori LGBT che arrivano da tutto il mondo il 16 di giugno. È bello, ed è bello poterlo fare attraverso la musica. Quindi sì, vedo ancora un po' di strada da fare, però in fondo la luce io la vedo. Io forse sono un amabile ottimista, però ci siamo quasi. Rimaniamo sempre in un paese molto lento, molto diffidente. Ma io ho grande fiducia a Rodovica, sono veramente molto testarda e propositiva. Ce la possiamo fare. Ostenati e contrari, sempre. Esatto, esatto. Abbiamo parlato appunto di libertà, però anche di autenticità e quindi la necessità di trovare una propria voce. Quanto è importante questa conquista nella vita? E tu, Zenith, hai trovato la tua voce unica e riconoscibile ad oggi? Provata, provata, contentissima, orgogliosa, fiera e felice finalmente di aver trovato questa voce. Soprattutto di essere coerente ed autentica in tutto quello che faccio, che piaccia o che non piaccia. Poi sicuramente c'è sempre una piccola parte di me che avrebbe voglia di scoprirsi un pochino di più, ma che magari è un pochino più timida e più discreta, ma arriverà anche questa parte. Quindi, sì, sì, sono arrivata a un momento della mia carriera e della mia vita che sono davvero molto, molto soddisfatta. Soprattutto a livello artistico, perché ho fatto tante belle cose, mi sono fatto una bella gavetta e sto piano piano raccogliendo i vari frutti, no? E quindi l'ho trovata, Ludovica, sono molto contenta. Allora, ultimissima domanda. Vai. Ti sei esibita su grandi palchi internazionali, l'abbiamo nominata prima, l'Eurovision, poi in tre occasioni diverse, tra l'altro, non soltanto una volta. Hai nominato prima il Freaky Trip to Rotterdam, che è stato parte integrante, quindi ti ha portato a conoscere, ad espandere la tua presenza verso l'esterno, verso gli altri. E per te che esperienza è ogni volta quella dal vivo? Cioè, quali emozioni ti restituisce il live, l'aspetto live rispetto al lavoro in studio? Ah no, è il mio centro, è il mio elemento migliore. Il live, i concerti, anche quelli più piccoli, molto, molto di più degli studio, della televisione, dei teatri. Per me il live, il cantare, riuscire a trasmettere la mia adrenalina, mi rendo conto di essere sempre un po'... Per me è molto, molto importante, anche molto di più delle intervigie, tutto il contorno. Tu fammi cantare, fammi cantare in un piccolo palco, in un grande palco, fammi cantare, dammi la gente davanti e io sono felice. E non è egocentrismo, è proprio desiderio e urgenza di poter scambiarsi delle bellissime energie. E succede, succede. Infatti io sono, nella seconda parte della pandemia, sono morta, perché stava diventando annichilente, anche dover parlare attraverso uno schermo. Io, poiché non sono molto, sono un po' pigra, no? Con i social, col telefono. E quando finalmente c'è stata la possibilità di fare Eurovision, ah, mamma mia, non puoi capire. E quindi io non voglio più smettere. Se c'è anche il piccolo concerto, io lo vado a fare. Sono una mercenaria. Io ti ringrazio veramente per questo incontro, per questo scambio di energie meravigliose. Sei un vulcano. No, ti ringrazio, ti ringrazio. Spero di vederti al Pride a Roma a questo punto. Sì, sì, sicuramente sì. Poi ovviamente sei invitata a Bologna al festival, perché sarà un evento etico. Però dai, a questo punto vengo giù a Roma io e poi magari chissà, se riuscissi mai a venire tu a Bologna. Assolutamente. Su Roma sicura, veramente. Mi tengo il 99,9% perché non si sa mai nella vita, ma... Va bene, perfetto. Ci sarò. Ci conto. Grazie Ludovica, a presto. Grazie a te, veramente. A presto e buona vita.